Detto anche l'esecutore si preoccupa molto della propria immagine che basa sul modello di successo proposto dalla società in cui vive da estrema importanza alla riuscita che tenta a tutti i costi di ottenere con efficiente concretezza ed enormi sforzi personali E vediamo questo N-tipo numero 3 che prende il nome anche di personalità camaleontica e questo perché è in grado di leggere in maniera molto accurata gli standard e i costumi di una determinata cerchia di persone per poi incarnarli in maniera esemplare divenendo il prototipo stesso di quel gruppo L'N-tipo 3 è orientato al fare ed è dotato di una grandissima energia che impiega per eccellere in tutti quei campi in cui vede la possibilità di distinguersi per ottenere il plauso altrui E l'ideale dell'io di questo N-tipo può essere riassunto da frasi quali io ho successo, io posso raggiungere qualsiasi obiettivo Ed il popolo americano, sia ben inteso nordamericano con la sua spiccata tendenza all'efficacia all'arrivismo e alla menzogna ne è un esempio molto molto calzante Chiaramente questo N-tipo più è fissato nel proprio carattere e più ingannerà gli altri oltre che se stesso La sua preoccupazione più grande è quella di evitare l'impotenza che tuttavia caratteristica il cuore del proprio nucleo interiore Lo sforzo enorme che questo N-tipo mette in tutte le attività della propria vita è sempre volto all'essere efficiente in qualsiasi campo Claudio Naranco lo descrive proprio come un tipo al servizio dell'efficienza cosa che lo rende molto preciso e molto accurato quasi come se avesse un superpotere un talento che gli permette di apprendere e di fare in maniera estremamente veloce forse proprio a causa della sua necessità di distinguersi L'N-tipo 3 dà eccessiva importanza al successo per raggiungere il quale può diventare molto spesso implacabile, spietato ed incurante nei confronti degli altri Più è fissato nel proprio carattere e più importanza darà all'immagine di sé tanto da diventare un perfetto ingannatore Ha un disperato bisogno di stima e di valore che però è soltanto esteriore è calibrata su ciò che la società ritiene essere di valore Si tratta dell'N-tipo più estroverso e dinamico di tutto l'enneagramma che ce la mette davvero tutta per raggiungere quell'immagine di sé di successo che vede nella società è sempre orientato verso un obiettivo verso il quale mostra cura e molta premura Più invece questo N-tipo è libero dalle prigioni del carattere più è in grado di essere intimo con sé stesso e di raggiungere anche questa intimità con gli altri in maniera completamente disinteressata Aspetto idealizzato, essenza personale Tutti ritengono di conoscere molto bene la propria essenza personale ma a ben vedere non si tratta d'altro che di un grandissimo fraintendimento Essa in verità ha a che vedere con la capacità di stabilire un rapporto umano genuino con sé stessi e con gli altri E per comprendere qual è la propria vera essenza personale è necessario un lavoro su sé stessi molto molto raffinato E l'immagine più calzante che emerge dalle antiche tradizioni rispetto a questa essenza personale è quella di una perla custodita da un terribile drago Il drago rappresenta il nostro ego, la nostra personalità e la piccola perla invece rappresenta la nostra essenza, la nostra anima e per portare in luce questa anima, questa nostra essenza è necessario, va da sé, sconfiggere il drago Una bellissima rappresentazione di questa immagine ci viene data nella nostra tradizione da San Giorgio che sconfigge il drago con la propria spada E che cosa significherà mai questa immagine se non la necessità di conoscere e confrontarsi con le proprie fissazioni egoiche per renderle più flessibili e fluide E questa è la summa, il senso di tutto il lavoro sull'enneagramma E solo attraverso questo processo è possibile raggiungere la propria essenza personale che è unica per ciascuno di noi E l'enne tipo numero 3 fa di tutto per raggiungere e per mostrare questa propria unicità ma la scambia con quella proposta dalla società e per raggiungerla vende l'anima al diavolo perdendo completamente la propria unicità la propria essenza personale La credenza che soggiace a questo tipo di comportamento consiste nel ritenere di poter riconquistare quell'amore perduto, probabilmente in teneretà quando non è stato né visto, né accolto, né valorizzato dal proprio ambiente familiare e ottenere quell'amore gli permetterà, nella sua fantasia finalmente di distendersi e rilassarsi Chiaramente un'enne tipo numero 3 sano libero dalle prigioni del carattere può diventare un vero e proprio esempio per l'intera società perché assomma le proprie qualità essenziali con quelle incarnate dalla società stessa ma senza mai scendere a compromessi e avendo sempre cura degli effetti che i propri comportamenti sortiscono sugli altri Presenza dell'essenza personale Molti insegnamenti spirituali tradizionali quali il taoismo, il sufismo e la cabala ne fanno esplicito riferimento Essi parlano tutti servendosi di figure molto simili di una perla interiore che rappresenta una presenza personale intimamente connessa alla maturazione della nostra coscienza individuale Essa si manifesterà nel cuore come apertura verso gli altri nella pancia come contatto intimo con i propri istinti e nella testa, nella mente come una capacità di pensare in modo limpido ed equanime Quando questa pienezza viene contattata autenticamente essa dischiude la possibilità dell'intimità che possiamo vedere sotto due punti di vista Numero uno la capacità di stabilire un contatto umano semplice e diretto che dà la possibilità all'altro di sentirsi visto ed accolto per quello che è e numero due permette a noi stessi di sentirci una persona umana reale in carne ed ossa Se la coscienza non si manifesta in un essere umano incarnato dicono queste tradizioni essa non ha alcuna possibilità di conoscere se stessa né tantomeno di fare esperienza o di esprimere le proprie qualità o la propria saggezza La persona è il culmine dello sviluppo dell'essere Di solito i bambini prima dei due anni intuiscono questa qualità di presenza e proprio in quel periodo in cui cominciano a separarsi dai propri genitori dagli adulti e vanno incontro a quel processo di individuazione che per Jung è un caposaldo per ogni essere umano Caratteristiche dell'essenza personale L'ideale dell'io dell'enetipo numero 3 ha molto poco a che fare con l'essere una persona vera Tutt'altro egli è quanto di più inautentico e cangiante non è altro che l'ombra della propria essenza personale dalla quale si è allontanato per compiacere gli altri L'enetipo numero 3 cerca disperatamente di imitare l'essenza personale in auge in una data società ma non fa altro che incarnarne una vuota immagine esteriore Per l'enetipo 3 sano e libero dalle prigioni del carattere è evidente che non c'è alcun bisogno di imitare nessun modello proposto dalla società è solo il contatto intimo ed autentico con se stesso a dettare ciò che è utile e ciò che è giusto Un ottimo esempio di enetipo numero 3 sufficientemente sano fu John Fitzgerald Kennedy che sapientemente riuscì a sventare una guerra nucleare servendo in tal modo il proprio paese e l'intera umanità Ma il 3 fissato al contrario non fa altro che mettere tutte le proprie capacità tutta la propria dinamica tutte le proprie energie al servizio del proprio tornaconto personale e così facendo non fa altro che ingannare se stesso e gli altri Non riesce mai ad entrare in contatto intimo ed autentico con gli altri dei quali si serve sempre per raggiungere i propri obiettivi e anche se riesce a raggiungere il successo in qualche campo della vita il suo è un successo apparente, falso e posticcio Comprendere le fissazioni e gli schemi mentali dell'enetipo numero 3 ci permette di accostarci al suo ideale dell'io che non è altro che il tentativo disperato di imitare e di emulare il successo che è ritenuto tale in quel dato tempo e in quel dato luogo Approccio diretto all'essenza personale Si tratta semplicemente di osservare e di studiare nei minimi dettagli il modo in cui entriamo in contatto intimo con gli altri e di scoprire il funzionamento che vi sta alle spalle Facciamo tutto come macchine efficienti orientate ad un obiettivo senza guardare in faccia niente e nessuno o abbiamo un cuore Consideriamo gli altri come persone reali con autentici bisogni o come mezzi per raggiungere i nostri scopi Solo in questo modo ci possiamo rendere conto di cosa significhi veramente essere una persona reale, autonoma e libera dai condizionamenti del tempo e del luogo in cui viviamo Non si tratta chiaramente di andare sempre e comunque contro la società non necessariamente perlomeno Possiamo anche esserne dei membri rispettosi ma prima è indispensabile essere degli esseri umani genuini autentici che declinano al proprio interno tutte le norme e le regole e sentono se sono veramente giuste ed utili Prima di essere uomini, prima di essere donne prima di essere bianchi o neri, nazionalisti o idealisti Siamo tutti esseri umani E osservarsi in questo modo può portare alla scomoda scoperta che molto spesso non siamo affatto così limpidi e che la falsità fa parte integrante della nostra vita E allora è importante accoglierla come si fa con tutte le nostre debolezze con compassione e senza giudizio E solo in tal modo è possibile scoprire quel vuoto che sta sotto la necessità di imitare costantemente i modelli e di falsificare soprattutto noi stessi Quel vuoto sorge dal terrore del fallimento che forse un tempo ci è stato troppo rimproverato Ed è solo valorizzando quel vuoto ed accogliendolo come una parte autentica ed intima di noi stessi che possiamo forse un giorno uscire dalla compulsione di fingere a spada tratta Osservare il nostro comportamento in questo modo richiede molta presenza molta lucidità e molta maturità Ma non si tratta di riuscirci Si tratta semplicemente di iniziare a provarci E allora la nostra vita non soltanto quella dell'entipo numero 3 potrà finalmente diventare trasparente e vera ed è questa verità che nutre la nostra anima Grazie a tutti